Ciao a tutti ragazzi e ragazze da conseguire un nuovo video Oggi giocheremo a Clash Royale Io ho proprio venduto un'essenza per niente Per rarità Per rarità Comunque si oggi giocheremo a Clash Royale E ditemi se volete la sigla o meno Perchè se la volete con la sigla durerà di meno Se la volete senza durerà di più Cioè vediamo se riesco a fare almeno una partita Perchè proprio durano pochissimi video Ora butto questo Butto i robot Maria e Carmina No poi i scheletri li odio No 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 Vabbè sono facilissimi da rompele Sembrano facilissimi ma invece proprio Vedi visto Ti mangiano tutto vivente E devi dire che questo mi sconvince Dai ma che ci vuole rompere due cose piccoli Beh ragazzi ci vediamo dopo che Fini la partita Finisce la partita Ok ragazzi ho perso la partita Vedete Ecco pure cambiate il coso Delle partite Prima non era neanche così Aiuto Allora io di qua ho il cavallo Quello quello e l'altro Guardiamo com'è così guardate Però lo guardiamo velocemente Perchè Guardate com'è veloce Sta pochissimo penso Perchè la partita è durata proprio troppo Che figo Che figo Comunque è chi si vuole Tipo nel mio clan Si vabbè si chiama Clash Ora ve lo faccio vedere Ok Allora Vi faccio vedere meglio Cioè vi faccio vedere il mio clan Stavo scanzato Fermo Levati No Non voglio guardare Ok Si Ok Allora vi faccio vedere meglio Perchè ogni botta si blocca Fa altro Ti muovi Ok No No Ma porca miseria Allora il mio clan si chiama Super Royale Trofei clan sono questi Perchè ce l'avevo pochissimi Ieri quando l'ho creato Ora ce l'ho un po' di più Allora E ha questa immagine Ora lo possiamo pure cercare Qua il mio clan Vi faccio vedere Allora Super Super Royale Cerchiamo Ora vi faccio vedere qual è O lo troverete con la luna Perchè a me ieri mi spuntava con la luna No Invece qua ci sono io Ok Sono io Ho messo pure Un messaggio Forza Basta Ok Mi raccomando Mettetevi Non ne richiedo Non ce n'è bisogno Per niente Vi volevo dire Che su Clash Royale Tipo volete Avete un sacco di Come dire Gemme Avete tipo 100 gemme E vi servono mille soli Per farvi clan Andate qui E io ieri ho fatto così Però Mi ne sono rimasti 42 No E Vabbè Ho detto Bella festa Che bello Che bello Io Per 2 euro Si Acquisto una carta Ok Questo video direi Che pure Si conclude così E al prossimo video Ciao Iscriviti Commentati Condividete